Ciao a tutti, io sono Paolo Santacà, sono il presidente dell'associazione di lettantistica sportiva Le Stelle dell'Orsa. Noi abbiamo sede a Verona, in Vicolo Croceverde, in centro città, però lavoriamo anche al Palazzetto dello Sport e in provincia a Garda e a Corbiolo di Bosco Chiesa Nuova. La nostra attività principale è lo yoga, il Kundalini Yoga per la precisione, seguiamo questa tradizione e viene modulato in modo diverso, ci sono le classi tradizionali aperte a tutti, non ci sono livelli, non ci sono principianti avanzati perché tutti praticano secondo le loro disponibilità e possibilità, per cui c'è gente che pratica magari da 10 anni e anche gente che ha appena cominciato. Oltre alle lezioni classiche di yoga, di Kundalini Yoga appunto, c'è anche la specializzazione per le donne in gravidanza, le donne post partum con i bambini piccoli. Abbiamo attivato da un paio d'anni, in convenzione anche col Comune di Verona, yoga per la terza età e soprattutto un corso anche per yoga curativo, più indirizzato a chi ha qualche problema particolare che accompagna lo yoga nel cercare di superare le patologie sempre ovviamente insieme allo sguardo attento di un medico. Ecco, tutto qua venite a provare, siamo disponibili.